Tutti gli uomini sono convinti di essere superiore alle donne, tutti, anche quello più aperto, più sensibile, sotto sotto, pensa che alla donna in fondo manchi qualcosa. Provate a chiedere a un uomo che sta per diventare padre, preferiresti un maschietto o una femminuccia? Ecco, lui con tutta la convinzione che riuscirà a metterci vi dirà, ma è uguale, l'importante è che sia sano. Come quella notte, camminavo nel centro di Milano, semideselto e buio, e mi vedo venire incontro allo scoindividuo. Pello in testa, soprabito bianco, che copre un abito scurissimo. L'uomo davanti a me ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Stringe in mano qualcosa di poco chiaro. A me non posso scappare, mi seguirebbe. Il caso del cane e del gatto è un esempio chiarissimo. Se nessuno scappa, non succede niente. Ma appena uno dei due scappa, l'altro... Come ho deciso di farmi una suora? Pardon, di farmi suora? Come ho scoperto di avere la vocazione? Un giorno camminavo per la strada, quando ho sentito una voce che mi chiamava. Filomena, Filomena, ascoltami. Mi son girata su, era Dio. No, era mio padre, che mi ha detto. Siete in sette sorelle, mangiate troppo. È stato tirato a sorte e sarai tuo a dover andare in convento. Contenta? E io? Che culo! E lui? Giù uno schiaffone. Zitta e obbedisci che le altre sorelle... Tre le mando in filanda e tre a battere. Ma come si fa a inventare una parola così brutta per una cosa così bella? Orgasmo! A me sembra il nome di un orco. Bambini, fate la nanna, eh? Altrimenti chiamo orgasmo! E poi ci sbranziamo di rosso e di nero! Vazziglia, stiamolone del cazzo maniaco! Comunista! Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le clarke. Uffa, se stasera questo diavolone non esce, arriva la badessa essa e mi fa dir messa e mi toglie la permessa di giocare ai grattevinci. Io adoro i grattevinci! E il poker, cazzo! E la roulette! E un tiro di coca! In realtà, se noi andiamo ad analizzare le due parole che vengono più spesso usate per indicare gli organi genitali femminili e maschili, ecco, utilizzate nel linguaggio comune, si scopre che in realtà hanno dei valori differenti. Ecco, io non so spiegare perché, eh? Però una viene sempre usata per indicare tutto ciò che c'è di bello e di buono nella vita. Che figata! Che roba figa! Ecco, si è subito catapultati in un mondo bello, positivo, colorato. L'altra viene utilizzata per indicare l'opposto. E che cazzo! E che cazzata! E si è subito in un mondo triste, avvilente, perdente. Tant'è che gli uomini hanno dovuto prendere in prestito la nostra parola, violentarla grammaticalmente per cercare di trasferire un po' di positivo nel maschile. Che figo! Che poi è giusto, eh? Perché se uno dei due scappa, vuol dire che ha dei buoni motivi per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. Si direbbe tutto al più che corre, no? E certamente io non ho voglia di mettermi a correre con un deficiente alle due di notte al centro di Milano. Senza le Clark, oltretutto. Ma l'importante è non avere paura. I maniaci, la sento, è come un odore. Come delle bestie, questi maniaci. Sta' attento, bambino, che gli uomini vogliono soltanto quella cosa là. La sento di Milano. Come delle minde, la sento. Ciao. Grazie a tutti